Avevano fatto razzia di materiale elettronico nelle auto parcheggiate in zona Giotto, ma sono stati beccati e denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Arezzo. È successo la scorsa notte, nei guai sono finiti un 52enne ed un 40enne di nazionalità italiana, entrambi residenti in città e già conosciuti dai militari in quanto aggravati da precedenti di polizia. I due sono stati notati dai militari durante un pattugliamento mentre si aggiravano con fare sospetto in via Legiotto, così i carabinieri hanno deciso di sottoporli ad un controllo più accurato. A seguito della perquisizione personale è saltato fuori uno zaino contenente diverso materiale elettronico portato via da un'auto in sosta forzando la serratura della portiera, del quale i due non hanno saputo giustificarne il possesso. Ulteriori accertamenti poi hanno permesso di rinvenire, poco distante dal parcheggio, anche un telefono cellulare in uso al proprietario della macchina finita nel merino dei ladri, pure quest'ultimo rubato dall'abitacolo. L'area furtiva è stata così restituita ai legittimi proprietari, i due sono stati invece denunciati per ricettazione in concorso.